Il saggio dottor Finch se mi consiglia un periodo di riposo. Un periodo di riposo. Come se il tempo potesse volermi. Il tempo è un altro anno. Il tempo è solo sistema di calcolo. Non ha il significato convenzionale. Comunque vi prescrizzi un periodo di riposo. O che non? Congedua. Quindi non si chiama le tempi adesso. Fabrizio non è concorrente. Sono potenti in riguardanza.